Aras Senol, 30 anni, celebre attore della sopa-opera turca Terra Amara, ha conquistato il titolo di vincitore dell'Isola dei Famosi 2024. La finale, svoltasi ieri sera, mercoledì 5 giugno, lo ha visto trionfare con un monte premi di 100.000 euro in gettoni d'oro, la metà dei quali sarà devoluta in beneficenza. Samuel Peron ha ottenuto il secondo posto, mentre Edoardo Stoppa si è piazzato al terzo. La vittoria di Senol è stata determinata dal pubblico, che ha votato in maniera numerosissima per lui, apprezzando il suo impegno e la sua dedizione durante l'avventura in Honduras. Grazie alla sua performance e alla capacità di instaurare un legame con i telespettatori, ha raccolto il 69% dei voti, contro il 31% ottenuto da Peron, ballerino di professione. L'attore ha annunciato con grande entusiasmo che destinerà metà del premio alla fondazione di Giulio Cicchettin, un gesto di solidarietà che ha ulteriormente conquistato il cuore del pubblico. La trasparenza e la generosità di Senol hanno contribuito a consolidare la sua immagine positiva, sia come artista che come persona. Samuel Peron, nonostante il secondo posto, ha dimostrato grande sportività e talento, ricevendo il 31% dei voti. Edoardo Stoppa, noto per il suo impegno come inviato di programmi televisivi, ha completato il podio con il terzo posto, confermando la sua capacità di resistenza e adattamento alle difficili condizioni dell'isola. In sintesi, l'edizione 2024 dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da una competizione avvincente e da partecipanti che hanno saputo catturare l'attenzione e l'affetto del pubblico, culminando nella vittoria meritata di Aras Senol. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.